ciao amiche oggi realizzeremo insieme la maglia perla vediamo subito i materiali che ci occorreranno io utilizzerò questo bellissimo filato di merceria italia artisan ovviamente troverete il link del filato il link alla merceria sotto nell'info box intanto vi dico le sue caratteristiche allora innanzitutto si chiama alise diva ombre batik silk effect perché veramente effetto seta è un 100 per cento microfibra vi dico la metratura ogni cake da 250 grammi è di 875 metri veramente una metratura molto molto importante molto importante qui abbiamo vedete un disegno illustrativo per farci vedere il tipo di degradé che è veramente molto molto morbido e molto molto apprezzato dalle amiche a cui piace questo tipo di filato oltre a questo bellissimo filato ci occorreranno un uncinetto tre e mezzo tre dipende dalla vostra mano io utilizzerò il tre e mezzo un metro per prenderci le misure un ago io uso coi cotoni specialmente questi aghi detti da materassaio perché hanno la punta secondo me gli aghi tira fettuccia sono buonissimi con la lana con il cotone o comunque i filati estivi è meglio un uncinetto appuntito perché così noi andiamo ad entrare nelle fibre e bloccare meglio i nostri fili quindi io userò un ago da materassaio voi se non lo avete potrete usare tranquillamente l'ago tira fettuccia e naturalmente un paio di forbici per nascondere per tagliare le codine e e quant'altro e i fili che dobbiamo andare a nascondere quindi partiamo con la sigla e poi direttamente con il progetto la partenza del nostro progetto non sarà a catenelle ma a moduli come vi ho già fatto vedere in un progetto passato quindi semplicemente vado a fare la mia catenella il cappietto iniziale in questo modo ed ora vado a creare quattro catenelle quindi solo per iniziare quattro due tre e quattro filo sull'uncinetto mi inserisco nella prima catenella realizzata o il cappietto dipende se voi lo contate come catenella ed andiamo a fare una maglia alta in questo modo abbiamo il nostro primo modulo vedete che si crea un anellino è il nostro primo modulo 3 catenelle 1 2 e 3 filo sull'uncinetto ora dobbiamo andare ad infilarci nella prima catenella quindi vedete prendendo però tutte e due le costine ora ve lo faccio rivedere meglio quindi abbiamo fatto il secondo modulo in pratica fatte le nostre catenelle noi ci dobbiamo infilare proprio qua nella chiusura dell'anellino precedente quindi facciamo 3 catenelle una due tre filo sull'uncinetto vedete c'è la catenella da questo lato entriamo prendendo anche il filo dietro questo qua sembra difficile ma è facilissimo anche perché è molto ben visibile nuovamente 3 catenelle mi soffermo un pochino su questo passaggio perché se lo imparate bene è veramente la lavorazione è facilissima nuovamente ecco qua prendendo tutti e due i fili e vado a creare i miei moduli io di questi moduli ne andrò ne andrò a fare 50 ovviamente dopo averli fatti vi dirò la misura effettiva di 50 moduli così che voi possiate aggiungerne o diminuirne non c'è un multiplo l'importante dovendo poi dividere per chiudere le maniche è che siano pari i moduli io ne vado a fare 50 voi potrete farne 52 54 48 46 l'importante è che il numero di moduli siano pari quindi proseguo con il fare veramente velocissimo le mie i miei moduli quindi i miei anellini e ci rivediamo ovviamente quando li avrò fatti tutti la mia catenella da 50 moduli corrisponde a 58 centimetri la scollatura la decidete voi in base a quanto la volete ampia per me così è più che sufficiente tenete presente che il mio la mia circonferenza della testa è di 55 centimetri quindi comunque la scollatura dovrà essere quanto meno della misura della vostra testa altrimenti non passerà lo scollo attraverso ad essa ora chiuderemo in cerchio così come vi faccio vedere andiamo a chiudere la nostra lavorazione in cerchio quindi tenete ben dritte ecco qua teniamo ben dritti nostri moduli e ci inseriamo nel primissimo modulo andando a chiudere con una maglia bassissima quindi congiungiamo il primo e l'ultimo modulo in questo modo stiamo bene attenti che la catenella sia dritta ora dobbiamo voltare il nostro lavoro in questo modo state bene attenti perché quando voltate si storcerà un pochino quindi dobbiamo andare a lavorare comunque nel primo modulo ma ma per avere una bella rifinitura della lavorazione vado a voltare la mia catenella in questo modo quindi il mio occhiello lo vado a voltare in questo modo guardate bene fate attenzione vedete che il modulo è creato da la maglia alta e la catenella dobbiamo ottenere la catenella verso di noi e la maglia alta all'esterno della lavorazione rientriamo nuovamente facendo un'altra maglia bassa perché l'ho fatto e sono rientrata due volte per non farlo storcere altrimenti tutta la lavorazione da questo lato inizierà a rivoltarsi andiamo a fare tre catenelle che saranno la nostra prima maglia alta e una catenella di separazione rientriamo nello stesso modulo e andiamo a concludere quello che è il nostro primo punto di passiamo al modulo successivo maglia alta catenella di separazione sempre nello stesso modulo maglia alta prossimo modulo maglia alta catenella di separazione maglia alta scusate o il cerotto che tira la lavorazione vedete che girando il lavoro abbiamo le catenelle da questo lato che vanno a fare come un decoro come una greca e quindi ci permetteranno di non dover rifinire il nostro collo e la lavorazione sta dal lato piatto vedete il lato piatto è quello creato dalle maglie alte il lato ondulato è quello creato dalle catenelle se non girate la lavorazione non importa il risultato sarà solo leggermente più piatto e quindi magari dovete fare un giro di rifinitura ma ai fini della lavorazione non cambia nulla è soltanto per non dover rifinire alla fine il nostro scollo perché così è già bellissimo proseguo facendo tutti i punti vi in ogni modulo sottostante ci vediamo a fine giro ecco come si presenterà la lavorazione al termine del giro notate bene una cosa per rimanere dritto qui farà una leggera torsione non importa nel momento in cui andate a chiudere non si vedrà più ed andremo a chiudere in questo modo quindi tenete bene la lavorazione dritta e non andiamo a chiudere sulla terza catenella d'inizio giro ci infiliamo direttamente al centro del punto v con una maglia bassissima in questo modo vedete che una volta fissato non si vedrà più la torsione iniziale siamo già al centro del nostro punto v facciamo nuovamente una due tre catenelle che sono la prima maglia alta ed ora ne andiamo a fare due di separazione e sempre nello stesso punto v andiamo a fare a concludere il nostro punto v qui nel giro precedente era maglia alta catenella maglia alta in questo giro sarà maglia alta 2 catenelle maglia alta e proseguiamo lavorando sopra ogni punto v un punto v vedete al centro del punto di maglia alta 2 catenelle sempre nello stesso punto di maglia alta e passiamo alla v successiva maglia alta 2 catenelle maglia alta proseguiamo così per tutto il nostro giro ecco come si presenterà al termine del secondo giro vedete che non sfarfalla e non tira e il collo è perfettamente tondo ora andremo a variare di nuovo la lavorazione ci congiungiamo sempre al centro del punto v del primo punto v quindi non andiamo a inserirci sulla terza catenella inizio giro ma andiamo direttamente all'interno del punto v e facciamo questo 3 catenelle che saranno la prima maglia alta rientriamo nel punto v e facciamo una seconda maglia alta una catenella di separazione di nuovo altre due maglie alte nel punto v quindi in pratica andiamo a fare un punto v doppio creato da due maglie alte una catenella e 2 maglie alte prossimo punto v nuovamente due maglie alte una sola catenella 2 maglie alte procediamo in questo modo per tutto il terzo il quarto ed il quinto giro quindi andiamo a fare tre giri di lavorazione in questo modo due maglie alte una catenella e due maglie alte noi ci vediamo per il sesto giro così è come si presenterà la lavorazione al termine del terzo giro di lavorazione ora il quarto e il quinto andremo a farli nello stesso modo volevo farvi vedere però una cosa come vedete un po rimane morbida la lavorazione vedete quasi sfarfalla non preoccupatevi perché non facendo più aumenti per i prossimi altri due giri quindi mantenendo la stessa lavorazione per tre giri andremo ad attenuare l'effetto sfarfallamento nel caso abbiate usato un filato che vi sfarfalla un po di più potete ricreare il secondo giro anche sul terzo e quindi spostare diciamo questo giro di lavorazione quindi il terzo giro lo potete spostare sul quarto e quindi avere una lavorazione un po più morbida ma non sfarfallante vi faccio vedere la chiusura giro perché ora non andremo più a chiuderci direttamente nel punto v ma ovviamente sulle catenelle quindi ho fatto il mio punto v doppio ora cosa faccio? vado a chiudermi sulla prima maglia alta quindi salto le tre catenelle vado direttamente sulla prima maglia alta lavorata dopodiché entro con una maglia bassissima al centro del punto v doppio faccio la seconda maglia alta catenella e di nuovo al centro del punto v altre due maglie alte quindi andiamo a ricreare il punto v doppio come vedete ecco qua questo è quello che dovrete avere ora io proseguo in questo modo quindi salto nel prossimo punto v doppio eccolo qua e faccio di nuovo maglia alta maglia alta una sola catenella di nuovo al centro del punto v doppio altre due maglie alte quindi andremo sempre a lavorare al centro del disegno sottostante in questo modo quindi facciamo questo per tutto questo giro e per il successivo quindi in pratica avremo il primo giro con maglia alta una catenella maglia alta il secondo giro con una maglia alta due catenelle due maglie alte il terzo il quarto ed il quinto giro con due maglie alte una sola catenella due maglie alte il tutto sempre lavorato al centro dei punti v sottostanti io proseguo con questo giro faccio il successivo e poi continuiamo con il sesto giro sono arrivata al termine del quinto giro e questo è il risultato vedete che è un po' troppo mollino quindi sfarfalla un pochino ecco io per ovviare a questo problema faccio un ulteriore giro come i tre precedenti ve lo dico perché a seconda del filato e della mano il problema di questo punto è proprio che potrebbe fare questo lavoro quindi essere troppo molle quando poi lo abbiamo adosso e adesso ve lo faccio vedere anche piegato quando poi lo abbiamo adosso fa un po' di fetto rimane tutto troppo molle vedete ve ne accorgete anche da qui vedete le spalle come curvano le spalle dovrebbero rimanere così dritte e se noi però le teniamo dritte fa questo lavoro quindi che cosa facciamo se fa così andiamo avanti a fare a ripetere quindi il terzo giro per tante volte fino a quando la lavorazione non si distenderà un pochino quindi non farà più queste onde laterali sui lati e ovviamente la spalla non diventerà dritta io penso che un altro giro potrebbe bastarmi tranquillamente perché non sfarfalla di tantissimo il mio però vedete che se io lo lascio molle questo è l'effetto ed è bruttissimo quindi andiamo avanti a ripetere il giro già fatto fino a quando non si attenuerà questo sfarfallamento nel mio caso io provo con uno e poi vi faccio sapere ecco qui dopo aver ripetuto il terzo giro per quattro volte quindi sono arrivata al giro 6 la mia lavorazione si è assestata noi lo proviamo a vedere da così vedete le spalle sono abbastanza dritte devono rimanere comunque in posizione orizzontale e non come prima che era chiuso così potrei fare un altro giro ma io sono soddisfatta così voglio comunque un po di morbidezza e quindi procedo con il settimo giro in questo modo partiamo sempre con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta rientriamo nel punto e facciamo la seconda maglia alta due catenelle nuovamente due maglie alte quindi come vedete la lavorazione sempre la stessa abbiamo variato le catenelle al centro del punto vi saltiamo nel prossimo punto vi di nuovo due maglie alte due catenelle due maglie alte prossimo punto vi nuovamente due maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte proseguiamo in questo modo per tutto il giro se sarà necessario anche per il giro seguente in pratica il nostro punto è sempre uguale andiamo sempre a realizzare un punto vi variando o le maglie o le catenelle in questo caso rimarremo sempre con due maglie alte ma andiamo a variare il numero di catenelle all'interno del punto ora io procedo con questo giro e vedo se anche il successivo posso mantenere le due catenelle nel progetto principale io in realtà avevo ero passata direttamente dalle due catenelle alle tre catenelle però vedo che questo filato sta reagendo in modo diverso ogni mano ogni filato ed ogni uncinetto reagisce in modo diverso alle nostre lavorazioni per cui proseguo con questo giro vedo se sfarfalla oppure se è ben teso il lavoro e a quel punto decido se aggiungere l'ultima catenella perché sarà l'ultima catenella che andremo ad aggiungere oppure posso proseguire con due maglie alte, due catenelle e due maglie alte come potete notare la lavorazione è ben piatta se noi andiamo a piegarla la spalla è ancora dritta mantenendo una certa morbidezza ora andiamo a fare l'ultimo aumento dopodiché non ne faremo più e vi spiego il perché gli aumenti ci servono soltanto per arrivare alla fine della spalla quindi nel momento in cui noi arriviamo alla spalla quindi alla larghezza della nostra spalla ma anche un po' meno possiamo smettere di aumentare perché non ci serve più scavallare la spalla la spalla è il nostro punto più largo quindi ovviamente non è necessario fare ulteriori aumenti quindi teniamo presente che adesso comunque ne andiamo a fare andiamo a fare ancora 50 aumenti perché noi abbiamo 50 moduli dopodiché abbiamo fatto nel primo giro tutti aumenti nel secondo giro altri aumenti il terzo giro l'abbiamo aumentato l'abbiamo mantenuto per 4 giri dopo il quinto giro, il sesto giro abbiamo fatto il settimo giro di aumenti ed ora andiamo a mettere altri aumenti e una catenella in più per modulo sono 50 aumenti in un giro sono tantissimi quelli sono quelli che andremo a fare e poi basta quindi non sarà più necessario fino a fine lavorazione fare ulteriori aumenti a meno che voi non abbiate una taglia grande o un seno importante allora in quel caso potrete ulteriormente aggiungere una catenella in questo momento noi arriviamo a 3 catenelle tra le maglie alte noi se volessimo aumentare ulteriormente andiamo ad agire su quella catenella o eventualmente mettere una catenella di separazione tra una via e l'altra però secondo me non sarà necessario più o meno per tutte le taglie perché nel caso di un cambio taglia vi consiglio 3, 4, non 3, 4 moduli in più per ogni taglia la mia è una taglia M e io sono partita con 50 moduli se voi siete una taglia L partite con 54 se siete una XL partite con 58 e così via quindi la taglia la cambiamo in base alla scollatura in descrizione vi lascerò tutte le info necessarie per il cambio taglia proseguo con la lavorazione l'ottavo giro partirà in questo modo 3 catenelle un'altra maglia alta all'interno del punto V 1, 2, 3 catenelle di separazione di nuovo 2 maglie alte all'interno della stessa V sottostante quindi passiamo al punto successivo nel quale faremo 2 maglie alte 3 catenelle e 2 maglie alte 1 e 2 continueremo così fino al termine del giro e proseguiremo in questo modo fino alla chiusura dello scalfo manica che realizzeremo insieme ed eccomi qua dopo 15 giri e vi dico subito misurando così 15 centimetri io posso andare a chiudere per lo scalfo manica lo scalfo manica tenete presente che questi sono 15 centimetri ma voi dovete andare a provare dove appoggia la spalla e dovete vedere se avete almeno 18 dai 18 ai 20 centimetri come vedete io qua ne ho 19 quindi misurando dalla punta in obliquo quindi non seguendo la lavorazione ma andando in obliquo vedendo dove più o meno chiudete per lo scalfo manica dovete avere sui 18-19 io anche 20 volendo stare a vedere ce li ho quindi posso andare a chiudere per il mio scalfo vi devo dare qualche precisazione siccome siamo andati avanti senza aumenti per un po' di giri potreste non avere la circonferenza toracica quindi le cose da fare sono due allora inizialmente potete per ingrandire un po' per allargare aumentare il numero dell'uncinetto anche mezzo punto andrà benissimo seconda cosa da fare fare altri aumenti quindi fare altri giri io nell'ultimo giro ero con due maglie alte tre catenelle due maglie alte voi potrete arrivare a fare tre maglie alte due sole catenelle e tre maglie alte su ogni punto sottostante quindi potete comunque ingrandire ancora ma se non voleste optare per questa soluzione io ne ho un'altra aggiungere comunque maglie sotto allo scalfo nel momento in cui andiamo a chiudere e vi farò vedere subito come farlo direttamente con i moduli quindi senza catenelle ma come l'avvio quindi con i moduli saranno leggermente variati come dividere la nostra maglia semplicissimo inizialmente io la divido per 4 quindi ho 50 maglie più o meno la divido per 4 dopodiché vado a togliere centimetri ovviamente sui sulle maniche adesso vi dico subito come la divido io e voi potreste comunque adattare sulle vostre misure ma ma siccome è una maglia che tende a sfarfallare perché questa rotondità tende sulla schiena specialmente dove non abbiamo grande necessità di avere tante maglie perché può essere che abbiate un seno prosperoso è una schiena non in linea con le misure del seno ecco quindi potrete anche mettere più moduli davanti e meno dietro quindi dividete per 4 tutto ciò che vi avanza lo spostate avanti dopodiché andate a togliere sia a destra che a sinistra in modo da avere comunque la circonferenza del vostro braccio tenendo comunque presente che andremo a mettere qualche maglia sotto l'ascella quindi non vi lascerò con la maglia chiusa così a meno che voi non vi ritroviate perdonatemi già con le misure necessarie quindi se avete già la vostra circonferenza a quel punto potete tranquillamente unire e senza nessuna aggiunta sotto l'ascella a vostra discrezione ora io vi faccio vedere quanti moduli metto io per la manica quanti sul davanti quanti sul dietro e quanti andremo a metterne sotto lo scalfo manica io ho deciso di dividere le porzioni del mio lavoro in questo modo metterò 10 moduli su una manica 10 moduli sull'altra manica mi rimangono avendone io montati 50 30 moduli che ho suddiviso in questo modo 16 davanti e 14 dietro perché comunque sul davanti avendo il seno abbiamo sempre necessità di avere moduli in più ovviamente dovete calcolare a questa circonferenza i centimetri in più che avremo messo sotto agli scalfi quindi qui ci troveremo 10 più due moduli e di qua sempre 10 più due moduli che abbiamo aggiunto sotto allo scalfo manica quindi avremo anche centimetri in più comunque in circonferenza ora andiamo a vedere come in pratica ho fatto andiamo quindi a chiudere per lo scalfo manica in questo modo 3 catenelle esattamente come fatto finora vado a fare un punto V doppio quindi costituito da 2 maglie alte 3 catenelle e 2 maglie alte sempre nel punto V doppio sottostante quindi esattamente come se stessimo facendo un altro normalissimo giro vi ricordo che se voi avete aggiunto aumenti o catenelle dovrete lavorare come nel giro precedente quindi se avrete fatto 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte come consigliato da me poc'anzi per ingrandire ulteriormente il vostro giro la vostra circonferenza andrete a ripetere quello che c'è nel giro sottostante ora andiamo ad aggiungere moduli ma non possiamo fare come abbiamo fatto nella partenza quindi creare il modulo con 3 catenelle e maglia alta perché qui come vedete il disegno costituisce più centimetri di quelli che avevamo all'inizio per calcolare quanti moduli mettere sotto allo scalfo manica prendete un centimetro ed andate a misurare all'estremità un ventaglietto il mio ventaglietto misura più o meno due centimetri e mezzo quindi metterò qualcosina di più per arrivare più o meno a cinque centimetri io so che devo aggiungere almeno due moduli se ne voglio di più ne metto di più se ne voglio di meno ne metto di meno io adesso vi faccio vedere con due moduli ma due moduli più grandi quindi vado a caricare una due tre quattro catenelle carico due volte il filo sull'uncinetto entro alla base come fatto ad inizio quindi vedete sopra al disegno alla base delle catenelle e vado a fare una doppia maglia alta quindi esco da due da due da due vedete che il modulo è leggermente più largo ma non mi sembra ancora sufficiente quindi che cosa faccio vado a fare cinque maglie alte e una quadrupla maglia alta quindi cinque catenelle perdonatemi una due tre quattro cinque carico una due tre volte il filo sull'uncinetto vado alla base ecco qua prendendo sempre la base tutti e due i fili esco da due esco da due esco da due esco da due vedete che il mio modulo è bello largo per sapere se è giusto lo vado a misurare deve misurare almeno vedete due centimetri due centimetri e mezzo deve misurare in pratica come la larghezza finale del mio modulo perché perché sennò mi arriccerà sotto l'ascella e non va bene io vado ad aggiungerne due voi potreste aggiungerne quanti volete quindi vado a fare una due tre quattro cinque catenelle carico una due tre volte il filo sull'uncinetto nuovamente vedete alla base qui mi infilo prendendo anche il filo dietro in questo modo esco da due da due da due da due e da due e ho creato i moduli che mi servono per mettere le maglie sotto allo scalfo manica ora filo sull'uncinetto per me ho calcolato che faccio una manica da dieci moduli quindi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci entro nell'undicesimo perché io tra un modulo e l'altro che vado a lavorare ne devo avere dieci quindi entro nell'undicesimo e vado a fare la lavorazione come nel giro precedente vi chiedo scusa ho messo la crema sulle mani e l'uncinetto non scorre bene perché ho incremato il filato quindi due maglie alte una due tre catenelle e vado a fare due maglie alte ora ho chiuso vi faccio vedere ho chiuso per la mia manica lasciando ecco qui i moduli per fare una piccola aggiunta ed ingrandire la circonferenza toracica un modulo è quello dove ci siamo riagganciati dopo aver fatto i moduli aggiuntivi e saltato i dieci sottostanti quindi conto già uno e vado a farne un totale di diciotto ecco qui come potete vedere c'è lo scalfo manica ci sono uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici e sedici moduli lavorati ora dobbiamo andare a saltarne dieci quindi facciamo esattamente come fatto prima andiamo a fare cinque catenelle uno due tre volte il filo sull'uncinetto andiamo alla base della nostra maglia e facciamo la tripla o quadrupla maglia alta di nuovo uno due tre quattro cinque catenelle di nuovo uno due tre volte il filo sull'uncinetto andiamo alla base delle nostre catenelle usciamo da due usciamo da due usciamo da due e usciamo da due abbiamo fatto i nostri due moduli quindi nuovamente andiamo a saltare i moduli che dobbiamo saltare quindi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci nell'undicesimo filo sull'uncinetto vado al centro del punto sottostante e vado a fare le mie due maglie alte tre catenelle e due maglie alte ripeto e ribadisco se avete fatto più aumenti nei moduli sottostanti ricordatevi di ripetere quello che era il giro sotto quindi ora se è fatto tutto giusto contando anche quello che abbiamo appena lavorato dovremmo avere uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici e ovviamente il quattordicesimo era quello dell'inizio giro quindi abbiamo chiuso il nostro scalfo manica una volta chiuso per le maniche vedete abbiamo concluso il giro ora dobbiamo andare semplicemente a lavorare in circolare non abbiamo più da fare nient'altro e sempre nello stesso modo quindi ripetere sempre l'ultimo giro fatto per scendere dritti se invece vorrete a un certo punto svasare la maglia basterà fare gli aumenti come detto prima però tenete ben presente ogni volta che aggiungete due maglie quindi vi faccio l'esempio pratico io qua ho due maglie alte tre catenelle due maglie alte andrò a togliere una catenella quindi farò tre maglie alte due sole catenelle e tre maglie alte se vorrete fare un ulteriore aumento più avanti farete tre maglie alte tre catenelle tre maglie alte perché vi faccio aggiungere così perché se io vado ad aggiungere due maglie alte quindi da due maglie alte tre catenelle due maglie alte le faccio diventare tre le maglie alte per non fare due aumenti devo togliere una catenella perché maglie e catenelle devono risultare di un numero ben preciso quindi due più tre cinque più due sette se vado ad aggiungere altre due maglie diventano nove noi per fare l'aumento dobbiamo arrivare ad otto per averne solo un aumento per modulo quindi aggiungo le maglie tolgo le catenelle nell'aumento successivo invece ad aggiungere altre due maglie vado ad aggiungere la catenella che ho tolto e quindi avrete sempre un graduale svasamento della maglia senza bruttissime arricciature ora però andiamo a ricostruire le maglie sotto allo scalfo dopo aver chiuso mi sono già portata al centro della mia v doppia e quindi parto con le solite tre catenelle maglia alta all'interno del modulo sottostante tre catenelle di separazione di nuovo due maglie alte all'interno sempre dello stesso modulo ora proseguo lavorando in questi due moduli appena creati per la chiusura dello scalfo e non faccio altro che ripetere questo modulo all'interno di questo quindi entro qui e faccio due maglie alte tre catenelle due maglie alte una e due rimarrà leggermente largo ma non importa perché noi così non andiamo a far arricciare la lavorazione quindi vado nel modulo a fianco eccolo qua e di nuovo ripeto le due maglie alte 3 catenelle e due maglie alte create queste ricomincio a lavorare sui moduli del torace quindi sempre le stesse andiamo avanti a ripetere per tutta la lavorazione sempre la stessa cosa quindi quando arriverò poi qui chiuderò la lavorazione mi alzerò come fatto per i giri precedenti e quindi adesso vado ad allungare la mia maglia arrivata da quest'altro lato farò la stessa cosa quindi andrò a ricostruire le maglie qui all'interno dei moduli nello stesso modo è veramente semplicissimo e non dovete stare a contare le catenelle che di solito sono una noia ve lo dico proprio chiaro anche a me annoia fare le catenelle sotto allo scalfo invece in questo modo abbiamo una lavorazione semplice non dovete calcolare multipli non dovete fare niente il lavoro è facilissimo io procedo con l'allungamento della mia maglia e ci vediamo quando sarò arrivata sul fondo eccoci arrivati quindi alla fine della maglia come vedete l'ho allungata devo spostarla perché non ci sta tutta nell'inquadratura vi dico che mi è avanzato questo filato avrei potuto allungare ancora ma secondo me mettendo anche questo filato rimanente sarebbe venuta una maglia troppo lunga e un vestito troppo corto di conseguenza se volevo una misura piacevole ho avanzato questo gomitoletto tenete conto che la mia maglia è una taglia M piccola quindi se fate una M regular userete sicuramente tutto questo filato o anche una M abbondantina perché io l'ho fatta un po' lunga mi arriva comunque sul fianco e quindi userete tranquillamente anche questa rimanenza quindi tutta la cake adesso vi dico tutte le misure della mia maglia prima di mostrarvi comunque i particolari la mia maglia misura dal collo al bordo inferiore 55 cm quindi comunque è abbastanza ampia vi dico la larghezza che ho ottenuto con anche le spalle 52 cm ovviamente non ci sto tutta nell'inquadratura dopodiché la partenza della circonferenza toracica è 36 per 2 perché ovviamente dobbiamo calcolare la larghezza per 2 per avere la circonferenza però io poi ho fatto altri aumenti sotto come ve li ho spiegati sopra infatti vedete che a un certo punto ho 4 maglie alte 3 catenelle e 4 maglie alte nel mio ventaglietto e quindi è aumentata la misura e sono arrivata a 47 quindi l'ho svasata leggermente sul fondo diciamo che sono scesa dritta fino quasi alla fine quando mi sono appoggiata sui fianchi ho allargato la maglia infatti vedete che fa questa forma si allarga tutto è così vi dico anche la manica quanto misura sono 13 per 2 quindi 26 di circonferenza la manica e lo scollo l'avevamo già visto insieme io ho semplicemente passato nel primo giro un fiocchettino per arricchirlo un pochino non posso fare la manica perché ovviamente non avendo staccato all'inizio il filato se andassi a congiungermi adesso la manica sarebbe totalmente di diverso colore quindi opto per lasciarla con la manichina molto corta come avrete visto dalla foto di presentazione comunque è una manichina non è non si può considerare una canottiera ora siccome me l'avete chiesto vi faccio vedere come nascondo il filato e per l'appunto vi faccio vedere che uso l'ago da materassaio perché è più comodo vedete io entro nella fibra della lavorazione quindi non entro tra le maglie ma lo punto proprio nelle catenelle nella fibra delle catenelle perché così il filato si incastra meglio dopodiché infilo il filo ma io lo faccio dopo semplicemente perché l'ho lasciato più corto e lo faccio passare ora torno indietro sempre entrando non nelle maglie ma proprio nel filato entro nel filato in modo che si incastri meglio e vado avanti e indietro almeno tre volte prima di tagliare il filo perché così sono sicura che non mi si sfilerà più una volta fatto questo vedete posso andare tranquillamente a tagliare la mia codina e ho nascosto il mio filato e così la mia maglia è finita spero che vi sia piaciuto questo tutorial spero di essere stata esaustiva nelle info vi lascerò a grandi linee la spiegazione scritta del tipo a quanti giri ho fatto il primo aumento a quanti giri ho fatto il secondo e così via perché così voi possiate rendervi conto esattamente come è fatta la maglia ovviamente io vi ho fatto vedere nel tutorial i passaggi principali quelli salienti ma poi la maglia l'ho continuata da sola vi lascerò comunque le info scritte in descrizione così che voi sappiate esattamente come procedere nella sua realizzazione vi lascerò anche il cambi taglia naturalmente approssimativamente il filato sempre merceria Italia artisan per il filato e vi metto il link sia a questo colore sia al gomitolo alla cake di preciso quindi alise diva ombre batik vi ridico così a grandi linee il colore così potete valutare il colore è 73 69 ma vi lascerò il link ovviamente sia alla merceria che al filato specifico io vi mando un bacione grande grazie per essere stata con me al prossimo tutorial un bacio ciao a tutte grazie a tutti grazie a tutti ho chiuso per la mia manica lasciando ecco qui i moduli per fare una piccola aggiunta ed ingrandire la circonferenza toracica grazie a tutti